Ciao di grottine, ciao di grottini, scusate se sfarfallo un pochino la luce, se ho una faccia orribile, ma ultimamente ho una pelle tremenda, tremenda, tremenda ma questo è un video un po' speciale a cui tenevo tantissimo e che avrei dovuto fare mesi fa, no, mesi fa no, però inizio mese, subito dopo il mio compleanno perché sarà il video dei miei regali di compleanno e invece purtroppo lo faccio ora perché dovevo caricare prima il vlog che durava un botto, tipo 45 minuti qui è una cosa nata, non avevo mai spazio per registrare questo, quindi mi trovo qui pronta per registrarlo scusate ancora le condizioni, però l'importante è il contenuto, ripeto, ripeto, ripeto che non sarà assolutamente un video per vamparsi o cose strane ma semplicemente so che vi piace tantissimo vedere i miei regali di compleanno e in questo video ve li mostrerò non sono tantissimi e non sono nemmeno tutti perché molte persone le devo ancora vedere e devono ancora darmelo sì, dopo un mese, però ecco ho lavorato molto in questo mese quindi ho visto sempre le stesse persone e quelle fuori da quelle che vedevo sempre non le ho ancora viste, sì e tanti regali li vedrete sotto forma di fotina perché sono i regali di Giulia che mi ha fatto ovviamente a distanza Giulia Forlì ancora non ci siamo viste dopo il mio compleanno quindi li vedrete in foto varie e così insieme anche alle foto di regali che vi farò vedere adesso quindi che ho fisicamente qua che mi sono stati fatti proprio fisicamente per farveli vedere insomma un po' più zoomati che capisco che da così non si vede proprio tanto bene odio la mia pelle ultimamente sono piena di brufolini cose strane, bello, brava che lo dici, cosa molto fine comunque è stato un bellissimo compleanno, sapete tutti che il mio compleanno per me è sempre e comunque il mio giorno speciale anche se è stato un compleanno speciale in tutti i sensi, un po' particolare perché è stato in zona arancione e sono stata anche fortunata perché io sono nata il 4 gennaio ed è stata la settimana delle zone colorate e quindi il giorno prima era rossa e il giorno dopo il mio compleanno era rossa sono stata fortunatissima, infatti mi ritengo veramente graziata perché ho potuto fare più cose sicuramente di una zona rossa ovvero andare al centro commerciale con le mie amiche e fare una piccola festicciola in casa con la cena ispirata ai miei piatti preferiti tutto a tema Harry Potter con i festoni, l'avrete visto nel vlog, se non l'avete visto andatelo a vedere e mi sono sentita super viziata soprattutto dalle mie fan, quindi dal mio fandom con tutti gli edit è stato pazzesco, tutti i poemi dediche si sono anche organizzate per fare degli edit tutte insieme che si passavano i biglietti, cose speciali davvero e Giulia che ha deciso di farmi un super regalo, infatti rientra tra i regali e ve lo dico come primo regalo ovvero farmi un video con dedica annesso a edit ogni ora quindi ragazzi stiamo parlando di ogni ora, non ne assaltata una non ve li metto qui per il semplice fatto che sono tanti e questo video già prevedo che durerà tantissimo una cifra però ve li ho messi alcuni, non tutti ma alcuni sul video vlog quindi se volete andateli a vedere là quindi io felicissima già di questo regalo e di queste persone che mi hanno fatto sentire veramente una principessa così come le mie amiche, i miei genitori e Luigi che vabbè sapete quanto tengo a Luigi direi di partire dai regali di i miei genitori partiamo dai regali dei miei genitori allora, primo regalo che mi hanno fatto i miei genitori in assoluto proprio preso da loro e tutto perché poi mi hanno fatto i soldini per comprarmi quello che volevo perché appunto sono andata al centro commerciale il giorno del mio compleanno e il pomeriggio è stato questo tra l'altro è proprio dentro questa busta stra carina ed è una borsa una borsa molto 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 benina questa borsa qua nera in pelle con tutti questi giri cori stra carucci stelline giri cori vari mi piace moltissimo sicuramente sarà super sfruttata e si può mettere a tracolla insomma questa la scelta la mia mami è stata molto molto brava ed è molto 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 azzeccata quindi questa borsa primo regalo da mamma e papà fatto proprio di loro spontanea volontà ed è di questa marca qui se vi interessa comunque molto molto carina mi è piaciuta tanto poi mi hanno dato 20 euro da spendere appunto i soldini da spendere al centro commerciale sarebbe stato appunto un loro secondo regalo fatto però da me ed io se sapete sono fissata con The Sims 4 che mi è arrivato da Babbo Natale quindi grazie Babbo Natale e quindi volevo assolutamente perché The Sims è bello ma senza espansioni più o meno è sempre la stessa solfa volevo assolutamente la mia prima espansione e informandomi con vari video su YouTube che veramente mi sono fatta una cultura su The Sims 4 gigante ho deciso di andare al GameStop e prendere la mia prima espansione la amo ed è vita in città io adoro vita in città anche perché mi sono fatta la famiglia con tutte le mie amiche e ho intenzione proprio di trasferirle qua quindi la loro unità familiare che per ora ce n'ho solo tre andrà sicuramente qui ed è The Sims vita in città bellissimo ci tengo un sacco expansion pack comunque la mia prima espansione in assoluto è bellissimo si possono fare tantissime cose prendere appartamenti girare per questa città che è praticamente New York parliamoci chiaro io adoro e fare un sacco di cose che ovviamente il The Sims normale non ti permette di fare sono tutte qua in vita in città lo adoro e quindi questo e la borsa sono i regalini da parte dei miei genitori li amo poi da parte delle mie amiche e anche loro sono state delle pazze che sono Eleonora Ilaria Chiara e Valentina amore miei sono delle pazze perché mi hanno fatto un super regalo a parte la marca che ve lo faccio vedere che ve lo dico fare se c'è questa marca io già svengo però non me l'hanno dato così e voi dite che bordicco ma te l'hanno dato non gli era ancora arrivato l'avevano ordinato dal sito ufficiale di Pandora perché questa cosa che vi mostrerò adesso anche questa è abbinata a un regalo che già ho avuto a Natale perché avendo la fortuna di essere nata poco dopo Natale molto spesso i regali sono delle evoluzioni dei regali di Natale come per esempio The Sims poi capirete se non mi avete già capito ma credo ne no comunque volevo dirvi che appunto questa cosa non si trova più in negozio quindi store di Pandora normali fisici ma si trova soprattutto su internet perché sta esaurendo almeno io penso così perché non l'ho vista da nessuna parte e credo che anche loro non l'abbiano vista ecco perché l'hanno preso su internet e doveva ancora arrivargli quindi adesso vi metterò la reazione perché io tutto il giorno dirgli ragazzi ditemi che mi avete fatto e loro tipo no 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 aspetti i regali aspetti i regali siamo arrivati al momento dei regali ho chiuso gli occhi e mi hanno fatto vedere la foto dal cellulare perché appunto doveva ancora arrivare allora il regalo l'avete già visto quindi sarete pronte a vedere com'è allora il bracciale lo avevo già chi ha visto il video dei regali di Natale è stato il mio regalo di Natale con aggiunta di vari ciondoli sia da parte di Babbo Natale che mi ha regalato l'Hogwarts Express sia da parte di Luigi che per Natale è impazzito e mi ha fatto un botto di ciondoli di Harry Potter io vabbè morta comunque è il mio bracciale di Harry Potter a cui tengo tantissimo il mio Pandora di Harry Potter ovviamente rigido proprio con la base di Harry Potter quindi ha come chiusura il boccino d'oro cioè di cosa stiamo parlando è bellissimo super lucido perché questo è super pulito ci sto molto molto attenta invece l'altro si è tutto sporcato poverino questo è nuovo ci sto super attenta ed è questo l'avrete visto bene dal video però ecco ve lo faccio vedere anche da qua anche se si vede molto molto peggio ed è semplicemente semplicemente niente perché io sapete che volevo questo bracciale di Harry Potter e fare proprio la collezione nuova il bracciale nuovo tutto e solo a tema Harry Potter da un sacco ed era assolutamente il primo ciondolo a cui avevo pensato quando ho visto la collezione di Harry Potter che era in uscita quindi parliamo di comunque due anni fa io impazzita io impazzita ho detto no devo avere il ciondolo di Grifondoro prima di qualsiasi altro ciondolo e non lo trovavo neanche Babbo Natale l'ha trovato in negozio e me l'hanno trovato loro sul sito l'hanno preso loro da lì non si vedrà niente quindi ve lo zoomo un po' qui c'è il grifone con le stelline rosse ovviamente per ogni casa ci sono le stelle ovviamente tasto rosso gialle corbo nero blu sarpe verde verdi e sotto qui c'è scritto ci sono i tre aggettivi insomma di Grifondoro cavalleria coraggio e determinazione nel caso di Grifondoro ovviamente per ogni casa cambiano ora ve lo faccio vedere meglio guardate che meraviglia qui c'è il grifone e sotto i tre aggettivi con questa cornice bellissima con tutte le stelline e è così sopra ha questa stellina bellissimo io innamorata quindi questo da parte delle mie amichette poi il mio miglior amico Marco me l'ha dato dopo perché il giorno del complanno purtroppo non ci siamo potuti vedere quindi me l'ha dato dopo e vi faccio vedere cosa mi ha fatto una comica mi ha fatto stile nonno nonno style guarda quanto so brutta vabbè mi ha fatto una bustina blu che ora è vuota con dentro i soldini e voi dite ma che cosa di cattivo gusto che ti ha fatto i soldini lui mi ha fatto i soldini per andare da Giulia ed è una cosa che significa tanto 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 accumulati i soldini del mio stipendio del mio primo lavoretto insomma appunto primo lavoretto serio perché ne ho fatti altri che sto facendo adesso sto lavorando accumulati mi faranno andare da Giulia e credo sia il regalo più bello e più sentito in assoluto mi ha fatto proprio mi ha dato proprio un modo di andare da Giulia ancora non ho preso i biglietti per il periodo attuale ci stiamo un po' ingegnando su quando logicamente sarà possibile e la legge lo permetterà ovviamente cioè non è arrivato contro la legge come andata Giulia volo però ecco quando si potrà Marco mi ha aiutato a fare questa cosa che per me è un regalo talmente grande che io sono rimasta senza parole e con un pochino dei soldi che mi ha dato Marco mi sono comprata ovviamente in aiuto altri soldini miei perché i soldi per Giulia li ho messi da parte quello in più l'ho usato per un'altra espansione quindi questa possiamo dire che è da parte sia mia autoregalo sia di Marco quindi è anche un regalo di Marco ed è l'espansione nuove stelle l'ho scelta ce ne erano tantissime in quel game stop quindi sono stata lì tipo 30 minuti no 30 minuti no 20 minuti buoni a guardare tutte le espansioni che mi aveva posizionato lì sul tavolo io così ma che faccio però alla fine ho scelto questa nuove stelle puoi diventare una stella del cinema super famosa ci sta una nuova zona guardate che figa con tutta la piscina e qui ci trasferirò la prima famiglia che ho fatto che è con Giulia poi vedrete forse vi faccio anche qualche gameplay se capisco come registrare il computer poi vedremo comunque nuove stelle quindi adesso per il mio compleanno ho due espansioni vita in città da parte dei miei e nuove stelle da parte di Marco adoro poi capite che regali capite ora vi faccio vedere i regali da parte di Luigi che sono qui fisici e poi i regali da parte di Giulia che sono un po' complicati perché vi devo far vedere tutte le foto quindi mi devo un po' organizzare quindi ora i regali da parte di Luigi Luigi come primo regalo mi ha fatto questa lettera una lettera molto molto carina che non vi faccio vedere il giorno prima proprio il giorno prima il 3 che ci siamo visti e mi ha detto di leggerla a mezzanò e av grandi av e Luigi mi ha portato questa mega busta vi faccio vedere il video della reazione anche di quello rosa con dentro il leopardato ora non so dove è finita quindi video occupatene e con tutti questi pacchettini così dove c'era anche un bigliettino d'auguri che sta lì insieme a tutti i bigliettini d'auguri anche quello lo vedrete nel video quindi non temete vedrete tutto e nei pacchettini c'era prima di tutto questo io porta io amo i profumi di Victoria's Secret ho scoperto che sono i profumi che proprio mi reggono meglio in assoluto e lui mi ha preso dato che sa che adoro i profumi di Victoria's Secret mi reggono e io ho una pelle che non regge i profumi mi ha preso questo al cocco che non so come ha fatto a sapere che era proprio quello che volevo vi dico che sono andata al centro commerciale con le mie amiche il giorno stesso prima di aprire i regali che poi li ho aperti la sera appunto e volevo comprarlo quindi meno male che non l'ho comprato perché poi me l'ha regalato Luigi quindi Victoria's Secret e questo si chiama Coconut Passion ed è pazzesco raga sa di cocco ed è Victoria's Secret cioè di cosa stiamo parlando e io ho altri due mamma mia io ho altri due profumi di Victoria's Secret uno shimmer e l'altro cuore quindi meno male che questo non era shimmer se no mi riempivo di brillantini sono contenta che me l'ha regalato insomma liscio un po' così più serio ecco e e quindi niente questo è il cocco ce l'ho già una la vaniglia non si vede che mi piacciono i profumi dolci e uno tutto estivo summer qualcosa comunque è il mio terzo profumo di Victoria's Secret e io non potrei essere più felice di questo regalo lo amo grazie Luigi e questo è il primo proprio il primo che ho scartato sono anche in ordine che brava Luigi mi ha fatto anche le decorazioni per la festa ovvero tutta la roba a tema Harry Potter ecco me l'ha fatta Luigi con un pack con tutte cosine a tema Harry Potter preso da Amazon che è stato completamente inaspettato infatti quando me l'ha dato ero tipo grazie renderei tutto fighissimo e quindi è stato molto molto bello anche questo pensiero e poi mi ha fatto un cartellone questo cartellone qua che è stato veramente un pensiero troppo troppo carino e troppo apprezzato e mi ha fatto anche un po' emozionare quindi ab amore si è fissato leggermente con i cartelloni ultimamente ma proprio un chicchino e quindi Luigi mi ha fatto sia il cartellone di Natale sia il cartellone per il compleanno con scritto auguri Elena in più la lettera in più la letterina che era dentro il pacchettino insieme a tutti questi regali è un folle è un folle però è stato bello perché mi hanno fatto sentire tutti una principessa nonostante appunto ho fatto il compleanno in zona arancione ho visto poche persone quelle poche sono state importanti e anche se erano poche per me è stato uno dei compleanni più belli sicuramente meglio di alcuni compleanni in cui mi ero circondata di persone che in realtà nel succo nemmeno magari mi volevano così bene come pensavo ovviamente nell'arco di tutta la vita non è stato sempre così sennò sarei stata veramente sfortunata però veramente poche ma mi hanno fatto sentire talmente bene che per me era come se fossero mille è stato bellissimo 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 una festa strabella quindi vi consiglio di vedere il vlog perché c'è tanto amore in quel vlog tantissimo amore non c'è la festa ai caraibi non c'è la festa a cena fuori ma c'è tanto amore e credo sia la cosa fondamentale anche più di tutti questi regali che per carità sono bellissimi ma di più di tutti questi regali insieme quindi tanto amore e il fatto che mi hanno fatto sentire veramente una principessa ma tutti anche persone a distanza io ho tante amiche a distanza anche loro le ho sentite vicine con me per tutto il tempo andiamo avanti se no mi emoziono altro regalo stra importante che mi ha fatto è stato questo preparatevi perché è una bellezza è sublime questo è cascato tutto intanto qua sotto poi sistemo questo e io quando l'ho aperto ho detto che figo è rosa ma ho manco capito cos'era ma che figo è rosa è il mio mod questo qua questo pack bellissimo questa scatola con scritto super trip super trip non avevo letto qua sotto matt bombs all'inizio poi l'ho capito piano piano e c'è anche la tipa che si fa il bagno furba Elena comunque raga bellissimo vogliamo parlare anche solamente di qui poi si apre potrei emozionarmi dalla bellezza ta 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 allora qui c'è la pagliettina che è una cosa adorabile mi fa infazzire la pagliettina rosa ovviamente c'è la cura di questo pack guardate poi qui c'è la scritta thank you sempre rosa sempre rosa poi abbiamo questo che spiega tutti i gusti perché avrete già capito che sono dei piccoli cibi dolci queste bat bomb i gusti e a cosa sono insomma che profumo fanno e poi ci sono le bombe splendide splendide ve le faccio vedere un'altra traiettoria per con l'ansia che cadono anche no la cosa che mi ha fatto sentire una principessa oltre proprio come mi hanno fatto sentire le persone sia vicine che lontane come ripeto è proprio il fatto che i regali siano così tanto pensati proprio per me ed è una cosa che mi emoziona sempre tantissimo perché quando i regali sono pensati vuol dire che c'è amore dietro e quindi emoziona questa cosa emoziona allora queste sono le splendide bombe abbiamo delle ciambelle c'è ragazzi di che stiamo parlando delle ciambelle abbiamo un pasticcino questi tipo torroncini questa che è bellissima oro tutta oro con i brillanti poi abbiamo questo che è sempre tipo una tortina praticamente è adorabile la super stellona con tutte le sfumature lilla e poi la mega torta con i strati addirittura qua sotto di cosa stiamo parlando la cura di questo pack pieno di butt bomb perché luigi sa quanto adoro le butt bomb ed ero a corto e quindi mi ha pensato bene di farmi proprio il pack ed è stupendo con anche ovviamente la descrizione di ognuna di loro a che cos'è eccetera io sono innamoratissima di questo regalo è strapensato e stra wow altro regalo da folle che ha fatto luigi che ha pensato bene di farmi luigi è stato scavando scavando come ultimo pacchettino perché lui giustamente è furbo quindi il meglio sta per ultimo un'altra bustina pandora questa era la sua un'altra bustina pandora io non avevo veramente idea di cosa fosse ero quasi sicura fosse una cosa di harry potter perché lui lo sa che voleva insomma concentrarmi sul nuovo bracciale di harry potter perché l'altro è praticamente finito e infatti cosa mi ritrovo vi faccio vedere la reazione facciamo poi vi faccio vedere come prima quindi bene bene adesso dopo la reazione pure rosa che carino bella sì tutto rosa bella sì respiro perché sai se no muoio è morta ora vi faccio vedere anche a voi mi ritrovo quest'altro pendente bellissimo a tre con i tre simbolini importanti di harry potter quindi gli occhiali argento la scopa bronzo e la saietta oro questo trio meraviglioso ve lo farò vedere assolutamente meglio insomma dalla reazione ma anche adesso da un'altra traiettoria perché merita tantissimo e anche questo da parte di luigi e questo regalo me ne ho aspettato in assoluto anche gli altri non me li aspettavo non avevo un'idea di cosa mi avesse regalato luigi nemmeno una però questo è stato veramente poco aspettato perché quel fatto che mi aveva fatto già tre ciondoli a Natale proprio era l'ultima cosa che pensavo un altro ciondolo vandola e invece è un pazzo quando una persona è pazza è pazza e ora vi mostro una carrellata spiegata mentre vedete le foto di regali perché il giorno prima del mio compleanno aspettando appunto la mezzanotte in modo alternativo l'ho fatto ho aspettato la mezzanotte con Giulia in live e anche con tutte le mie bimbe ovviamente e subito dopo la mezzanotte lo spumante l'avrete visto anche quello nel vlog se l'avete visto è tutto molto carino c'è stato il momento in cui Giulia mi ha fatto vedere in video tutti i suoi regali per farmi sentire ancora di più la vicinanza e l'ho sentita tutta e quindi vi mostro una carrellata di foto dei regali spiegate da me nella voce di sottofondo quindi partiamo con i regali che mi ha fatto Giulia innanzitutto vi mostro questa corona un anello che mi ha preso lei poi una serie di lettere quello è un libro con tutte le nostre chat segnate delle cosine delle creazioni che ha fatto lei poi questa maglietta che ha pensato per me e infatti è perfetta perché è rosa e proprio come piace a me vari disegni che ha fatto a mano che ragazzi quanto è brava ne vogliamo realmente parlare sia versione insomma cartoon e quello è un quadro se lo vedete lassù quello col tramonto pitturato proprio sulla tela e io piango e questi sono altri vari disegni nostri che raffigurano noi quella è la lista quella che vedete del programmino che vi avevo detto i regali che mi ha fatto la mia Giulia io emozionata perché che ve lo dico a fare dopo tutte le cose che mi ha fatto edit dediche ogni ora facendomi sentire ovviamente una regina mi ha fatto anche questi regali bellissimi quindi io voi da Giulia e da tutti mi sono sentita super coccolata super principessina ma dai il compleanno ci sta direi che ci sta tutto perché è il nostro giorno speciale era il mio giorno speciale quindi ci sta tutto anche io non mi sono risparmiata mica quindi mi sono comprata a parte anche io insieme ai soldini di Marco ho contribuito per comprarmi mi comprerò i biglietti per andare da Giulia sono i soldi già da parte sto aspettando solo di andare all'agenzia di viaggio e prendere i biglietti quindi è un regalo sicuro che deve solamente ultimarsi ma c'è ci sarà con i soldi miei quindi che mi sono guadagnata con il lavoro quindi assolutamente miei mi sono presa un autoregalo per il compleanno che è sicuramente questo cerchietto brillantinoso che l'ho preso lo stesso giorno quindi rientra tra i regali ma soprattutto questa splendida giacca teddy che sono quelle che vanno di moda adesso e io la amo esattamente questa super giacca made in Italy l'ho presa in un atelier ed è una giacca teddy quindi le classiche giacche che vanno tanto adesso la ho già rossa eccola qui ma la volevo troppo colore appunto teddy quindi questo marroncino ha anche i bottoncini qua sotto e ve la faccio vedere indossata per quel che posso e tada questa è la mia giacca teddy la adora è splendida copre tantissimo è super elegante mi piace un botto questo cambia un pochino il mio stile sta crescendo con me ecco e quindi ci sta una bomba l'adoro e questo è il mio auto regalo insieme a Giulia sì io mi sono regalata Giulia spero tantissimo che questo video dei regali quindi un po' speciale per me vi sia piaciuto me l'avete chiesto in tanti quindi so che sarà anche speciale per voi perché è uno dei video che vi interessa di più vedere ma proprio se ne parla da anni e anni quindi spero vi piazza e nulla qua da Elena è tutto un bacio grande spero ancora che questo video vi sia piaciuto vi amo qui è piaciuto qui è piaciuto qui è piaciuto qui è piaciuto